Ci fu un patto tra mafia, Vaticano e servizi segreti americani tra il 1943 e il 1947. Non è una congettura, ma una verità storica affiorata da documenti inediti e riservati rimasti segreti fino al 2004. Quei documenti, un tempo top secret, sono pubblicati e commentati nell'ultimo libro di Nicola Tranfaglia, storico e docente universitario. Si intitola La Santissima Trinità, mafia, Vaticano e servizi segreti all'assalto dell'Italia. Il volume, edito da Bonpiani, scritto con la collaborazione di Giuseppe Casarubea e Mario Cereghino, è stato presentato dall'autore Al Castello Arabo Normanno. Il titolo del libro è emblematico e ispirato alla frase che Gaspare Pisciotta, cugino del bandito Giuliano, urlò ai giudici al processo per la strage di Portella delle Ginestre. Banditi, polizia e mafia sono un corpo solo, come il padre, il figlio e lo spirito santo. Gli archivi di Londra, Washington e Roma rivelano un'inquietante Italia negli anni del dopoguerra e della nascita della Repubblica. Si realizza un'intesa sotterranea tra il Vaticano, rappresentato soprattutto da Papa Pacelli, Pio XII da una parte, dall'altra i servizi segreti americani, dall'altra ancora l'associazione mafiosa siciliana, che sorge per così dire dalle ceneri e ha subito un ruolo importante nell'isola. Questo è il quadro, diciamo. Da questo quadro emerge il fatto che Pio XII era terrorizzato dalla possibile vittoria del boscevismo e dell'Unione Sovietica e sperava in qualche modo che vincessero i tedeschi perché temeva che la vittoria del boscevismo avrebbe conquistato l'Italia e fatto dell'Italia una sorta di repubblica comunista. Per quanto riguarda i servizi segreti americani erano retti da personaggi che erano molto preoccupati anche loro della vittoria del boscevismo e quindi da questo punto di vista c'era effettivamente un incontro tra il Vaticano e i servizi segreti americani in funzione anticomunista, come poi sarà dopo il 1945. Con lo sbarco degli alleati in Sicilia irrompono sulla scena i bossi mafiosi italo-americani Laki Luciano e Vito Genovese che collaborano con l'esercito degli Stati Uniti. Questi due sono quelli che in qualche modo avranno un ruolo fondamentale per la crescita della mafia sicolo-americana e anche per il traffico degli stupefacenti, prima dei tabacchi e poi degli stupefacenti che diventeranno negli anni 50, 60 e 70 un capitolo importante della nostra storia. L'intreccio tra poteri occulti e criminalità organizzata non si è mai sciolto. Oggi non è più un teorema affermare che la prima Repubblica è nata con la strage di Portella della Ginestra mentre la seconda con le stragi di Capaci e Via D'Amelio. La trattativa fra Stato e mafia è entrata nei processi. È tutto drammaticamente attuale. Non c'è dubbio. Questa è una cosa che accompagna tutta la storia d'Italia. Adesso ci sono le procure siciliane che stanno facendo un lavoro importante per capire perché sono stati ammazzati Falcone e Borsellino e quali forze accanto a quelle mafiose hanno avuto un ruolo. Io spero che da quel processo sappiamo altre cose perché non c'è dubbio che la mafia siciliana ha tutte le sue responsabilità ma che non ha fatto tutto da sola. L'analisi rigorosa dei documenti fa dire allo storico che l'Italia si presenta oggi con una democrazia sempre un po' incompiuta perché effettivamente in vari momenti della nostra storia, anche recente, abbiamo visto che poi accanto a un governo visibile c'è, come diceva Norberto Bobbi, un governo invisibile che a volte ha più peso di quello visibile.